Il tricolore che sale sulle note del canto degli italiani è ancora la festa della Repubblica anche in questo tempo difficile. La Repubblica è imperfetta nel tempo con segreti, con verità nascoste, debianze più o meno conosciute, ma nell'animo e nella testa di tutti, unico vero baluardo di democrazia. La Repubblica è stata una conquista che i nostri genitori, i nostri nonni hanno fermamente voluto e noi abbiamo l'obbligo di proseguire su questa linea, non fosse altro per dire a loro grazie e per dire ci siamo e passiamo il testimone ad altri. Ed è la Repubblica che si festeggia anche a Chieti, corona dall'oro per i caduti di tutte le guerre, il noto estruggente del silenzio fuori ordinanza, il messaggio del Presidente Mattarella. Qui come a Teramo, come dovunque, dove il rituale non mute, dove si consegnano le onoreficenze ai cavalierati. Ma già ieri a Pescara sono iniziati i festeggiamenti ufficiali a Palazzo del Governo, dove dal tetto i vigili del fuoco in discesa hanno srotolato un grande tricolore, emozione pure.